La specie umana è l'unica specie animale sulla terra ad aver sviluppato una strategia di trasmissione della conoscenza fatta di codici, norme e tradizioni condivise capaci di proteggerci senza la necessità dell'esperienza diretta. Sappiamo che toccando due fili elettrici scoperti prenderemo la scossa, ma pochissimi hanno sperimentato davvero questo fatto, perché abbiamo sviluppato geneticamente la predisposizione a essere una specie culturale, abbiamo capacità e strumenti in grado di trasmettere l'esperienza e la scienza rappresenta senza dubbio il più alto grado di forma, di conoscenza cumulativa, cooperativa e condivisa che siamo riusciti a raggiungere come genere umano. E ciò nonostante, nel mondo contemporaneo esiste ancora una scarsissima consapevolezza delle dinamiche della scienza e delle dinamiche che regolano la comunità scientifica. Ad esempio i recenti dibattiti sul cambiamento climatico, l'efficacia dei vaccini, la gestione dei rifiuti, il futuro delle rinnovabili, qualunque cosa, sembrano chiedere alla scienza risposte immediate e inequivocabili e questo stesso mette in luce il fatto che esiste una profonda mancanza di comprensione del percorso, di costruzione del sapere scientifico, che invece è una conoscenza collettiva, condivisa, che nasce da un dibattito spesso feroce. Si tende a ignorare che il percorso di creazione di una teoria scientifica è una lenta distillazione di posizioni contrapposte piuttosto che il vero pronunciato da uno scienziato. È un processo caotico in cui il dibattito e il confronto rappresentano elementi necessari e un dibattito che si formalizza nel percorso di verifica sperimentale o di falsificazione della teoria pronunciata. Questa verifica continua e alla base della struttura evoluzionistica del nostro sapere. Gli scienziati percepiscono chiaramente che la verità, tra virgolette, che loro oggi magari propugnano è effimera, è mutevole, pronta a essere sostituita da altre teorie che meglio rappresentano la nostra realtà. I ricercatori sperimentali, al gruppo dei quali io appartengo, svolgono ricerche che progettano e eseguono esperimenti e misure. Per gran parte il nostro lavoro consiste nell'adattare la ricerca descritta in un articolo scientifico, quindi fatta da altri, ai nostri esperimenti. In questo modo ne verifichiamo spesso indirettamente la consistenza. Il processo di verifica o falsificazione avviene quindi non in modo aperto, perché spesso non è necessario dichiarare che una teoria non funzioni, più semplicemente se una teoria non funziona, non si applica all'ambito della nostra realtà, questa teoria non verrà citata dai nostri lavori né quella degli altri ricercatori, andrà via via scomparendo dal panorama bibliografico di settore, in un processo che possiamo definire di sedimentazione del sapere. Spesso questo processo è totalmente oscuro a chi non conosce i meccanismi del metodo scientifico ed è anche normale che così sia. L'appartenenza degli sperimentatori o se volete dei falsificatori a una stessa comunità però è davvero l'aspetto importante che garantisce che questo insieme di persone che per convenzione utilizzano le stesse regole e questo insieme di persone giochi secondo le stesse regole che portano a delle garanzie che il dibattito procede in modo contrapposto ma costruttivo. Se l'esperimento di verifica o falsificazione ad esempio venisse fatto non seguendo il metodo scientifico, il meccanismo si incepperebbe perché si arriverebbe a dei risultati che non sono più utili nel progresso della scienza e questo ci porta al punto di partenza. Come possiamo capire, non essendo all'interno di questo percorso, se una ricerca è stata progettata o stata condotta in modo corretto ma anche per noi stessi, le ricerche di altro settore, possiamo, siamo in grado di capire di discernere? No, purtroppo non è possibile fare questo tipo di lavoro perché al di là che sono delle fake news più pacchiane che tutti noi conosciamo, possiamo leggere sui blog, nei nostri politici nostrani, solo i ricercatori di uno stesso settore sono in grado di davvero valutare se una ricerca è stata condotta in modo scientificamente solido perché questo è il motivo per cui tutte le ricerche scientifiche che possiamo leggere sono per la maggior parte sottoposte a un vaglio di revisione tra pari in cui i colleghi della stessa disciplina, spesso anche della sottodisciplina rileggono, correggono e chiedono spesso ulteriori prove sperimentali a supporto delle affermazioni che si intendono pubblicare e neanche così il processo di revisione tra pari può essere, può dirsi sufficiente in ogni caso perché la rivista, il numero di riviste scientificamente disponibili su cui pubblicare sono ormai così tante, di qualità così variegata da rendere di nuovo praticamente impossibile dire che una ricerca è valida semplicemente perché ha superato il processo di revisione da pari. È vero, le riviste scientifiche hanno un ranking numerico basato ad esempio sul numero di citazioni che ottengono, il ranking poi può essere integrato da valutazioni legate al prestigio accademico, alla storia della rivista, all'indipendenza, all'integrità scientifica, purtroppo però operare una scelta nella grande quantità di fonti è la difficoltà del nostro tempo, non solo del sistema scientifico e se tutti noi siamo in grado di mettere nella giusta prospettiva un tweet del profilo Treccani da quello invece del blog di Salvini, la valutazione dell'affidabilità di articoli scientifici, spesso molto tecnici, da parte dei non addetti ai lavori è spesso impossibile. La promessa democratica di accesso diretto alle fonti che è stata sognata ai tempi del primo internet oggi si è trasformata in quella che è stata definita infodemia, la pandemia di informazioni che rendono difficile se non impossibile individuare le fonti affidabili. E per uscire da questo impasse però dobbiamo muoverci e promuovere una visione corretta del sapere scientifico, dei suoi limiti soprattutto, della sua natura mutevole in divenire. Soprattutto gli scienziati devono imparare a dialogare con le persone fuori dall'accademia recuperando la fiducia del mondo non accademico. Dall'altra parte però possiamo pretendere, dobbiamo pretendere, che giornalisti e decisori politici sviluppino una profonda comprensione della scienza e dei suoi metodi, così da poter sperare che le storie che leggiamo sui giornali o le decisioni che vengono prese siano basate su ricerche attendibili.